Il centrocampista dello sport in Braga Custodio è sicurissimo, i lusitani non cambieranno niente nella loro preparazione in vista della semifinale con la Spagna. Dopo le due presenze a questi europei, l'esperto Custodio classe 83 spera che Paolo Bento lo schieri anche contro i cugini berici. Le idee sono chiare su come andrà la partita, una battaglia a centrocampo per il possesso palla. Non cambieremo uno stile di gioco solo perché giochiamo contro la Spagna, quando siamo in possesso della palla cercheremo di conservarlo più a lungo possibile, quando l'hanno loro ci ripareremo da fare per riconquistarla. Spero di essere in campo ma comunque decide Bento. Il Portogallo sembra una formazione in crescita, specialmente dopo le vittorie convincenti con Olanda e Repubblica Ceca. La Spagna continua a essere la favorita dagli esperti ma Custodio pensa che i lusitani potranno fare lo sgamberto. La Spagna sicuramente è una gran squadra, sicuramente giocheranno per vincere come peraltro noi. Noi lo facciamo ogni volta ma per vincere contro di loro bisognerà tenerli chiusi in difesa e soprattutto impadire le loro ripartenze, questo è fondamentale. Bloccare Fabregas Iniesta o Xabi Alonso, facile a dirsi, difficile a farsi. Vedremo se ci riuscirà il Portogallo.